Una giunta tecnica senza agganci con i partiti se la politica boccerà il progetto per l'aeroporto del Grigento. Una forte presa di posizione del Presidente della provincia Eugenio Dorsi che insiste sulla necessità di realizzare lo scalo nel territorio grigentino. Dopo la Chiarelle con la città di Gela che rivendica la paternità di un progetto per l'aeroporto Federico II da realizzare in contrada Ponte Olivo, a pochi chilometri dal sito di Licata individuato dalla provincia del Grigento per lo scalo aeroportuale, il Presidente non si sente sicuro e mantiene alta la tensione, soprattutto nei confronti della politica. Se il progetto dell'aeroporto non passerà, ha detto ieri il capo dell'amministrazione provinciale, vuol dire che la politica ha bocciato il programma di questo Presidente della provincia e soprattutto una concreta possibilità di sviluppo sociale ed economico. Quindi ha aggiunto, come conseguenza non resterebbe altro da fare nel caso in cui il progetto subisse uno stop, che revocare l'incarico a tutti gli assessori che sono espressione dei partiti. Sarò costretto, qualora si verificassero queste situazioni, a formare una giunta popolare, un governo tecnico andando avanti per la mia strada. Consapevole, dice Dorsi, che i partiti potrebbero sfiduciarmi. L'unica cosa che mi consola e di cui prendo atto è che qualcuno dei politici e dei rappresentanti istituzionali, come il Governatore della Regione, Raffaele Lombardo, hanno rispettato gli impegni presi. Lombardo ha stanziato i fondi FAS ed ha anche inserito l'aeroporto nel piano regionale. Adesso la palla passa alla politica. Dorsi sa che ci sono delle difficoltà legate al fatto che il progetto di Gela è in una fase avanzata rispetto all'iter avviato soltanto adesso del suo aeroporto, anche se cerca di smorzare i toni. Le notizie che arrivano da Roma, aggiunge il Presidente, ci spingono ad essere ottimisti, ma dobbiamo fare sentire la nostra voce anche attraverso la mobilitazione dei cittadini e delle forze produttive della provincia. L'aeroporto non è un desiderio bizzarro di questo Presidente, questo lo ha capito l'opinione pubblica di questa provincia, ora lo deve capire il Governo nazionale. Troppo pochi sono stati gli interventi dello Stato per ammodernare il nostro territorio. Se si esclude il raddoppio della Statale 640 in corso di realizzazione, abbiamo fame di infrastrutture. Noi crediamo veramente che l'aeroporto sia uno strumento indispensabile per creare condizioni di sviluppo e nuove prospettive per la nostra provincia. Grazie a tutti.